Proprio ieri, in inaugurazione di una mostra in Russia, Vladimir Putin, l'attuale leader autocrate della Russia, si è paragonato a Pietro il Grande, importante zar del passato di questo grande paese. Ma chi fu Pietro il Grande e cosa fece? Oggi ne parliamo dal punto di vista storico, al di là della propaganda, al di là dei riferimenti contemporanei. Perché viene soprannominato appunto il Grande, cosa fece di così importante per la Russia, quali guerre condusse, come le condusse e come portò il suo paese ad affacciarsi per la prima volta in maniera ormai abbastanza importante verso l'Europa. Andiamo a cominciare. Non sono solo il caffè nella solita tazza con la scritta, andiamo a cominciare, che è d'obbligo. Con me ci sono i miei soliti compagni d'avventura, cioè Topolino, Tostoi, Batman, Deandrea, il mostro peroso, il cuscino, sto strano mostro qui che non so cosa sia, ma anche mio figlio vuole che si mostri. E poi ci sono io, io mi chiamo Romano Ferretti, sono un insegnante di storia e filosofia, insegno nel liceo scientifico Paleocapa di Rovigo e dal 2020, dal marzo del 2020, su questo canale, realizzo quasi ogni giorno, anzi praticamente ogni giorno, un video oppure un podcast legato alla storia e o alla filosofia. Sono video pensati principalmente per chi studia, quindi che seguono grosso modo il programma delle superiori, a volte anche qualcosina di quello che si fa alle medie, a volte anche qualcosa di quello che si fa all'università, ma in generale possono piacere, penso, anche agli appassionati, a chi vuole recuperare vecchie conoscenze, a chi vuole studiare per la prima volta. Insomma, se queste materie vi interessano, date un'occhiata al canale o anche nella descrizione di questo video, dove trovate i link più importanti per orientarvi. Oggi parliamo di Russia, di storia russa e in particolare della Russia tra il 600 e il 700. Abbiamo già fatto da pochissimo un video dedicato alla Russia tra 500 e 600 e lo trovate in descrizione, in cui abbiamo parlato prima, ovviamente, di Ivan Interribile, il famoso Ivan IV, che è il fondatore, in un certo senso, della Russia imperiale, perché è quello che per primo assume il titolo di Tsar e trasforma quella che era principalmente un gran ducato in un vero e proprio impero. Ma poi abbiamo detto, proprio in quel video là, che a un certo punto, dopo una serie di torbidi, così vengono chiamati dagli storici, dopo una serie di disordini, di anni caotici, emerge una nuova dinastia, che è la dinastia dei Romanov. Romanov, dinastia che effettivamente dal 600 fino all'inizio del 900 domina incontrastata in Russia. Questa dinastia di Romanov era stata fondata da Michele, primo grande imperatore Romanov, che abbiamo citato la volta scorsa, e ora andiamo avanti da lì, ripartiamo da lì. Perché, per arrivare a Pietro, dobbiamo vedere un po' come la situazione si evolve a fine 600. A Michele successe il figlio, chiamato Alessio, Alessio Romanov, che non fu un imperatore, uno Tsar particolarmente rilevante, anche se regnò a lungo, regnò per un trentennio anche lui, quindi un regno abbastanza lungo tra il 1645 e il 1676. Ma pochi anni dopo essersi salito al potere, questo Alessio emanò un codice, che è abbastanza rilevante nella storia della Russia, chiamato codice del 1649 normalmente, perché fu emanato proprio in quell'anno. Questo codice era una raccolta di leggi, come ogni codice, che però finiva per irrigimentare, per irrigidire in maniera molto forte la società russa. Cosa vuol dire irrigidire? Nel senso che questo codice sostanzialmente divideva la popolazione russa in tre grandi categorie, in tre grandi gruppi, che erano gli uomini di servizio, questi uomini di servizio erano in primo luogo i nobili, cioè tutti quegli esponenti delle fasce alte della società che dovevano ritenersi in un certo senso al servizio dello Stato. Quindi uomini di servizio. Uomini del borgo, o di città, che erano in pratica tutti gli artigiani e i mercanti, quelli che oggi chiameremmo borghesi, e infine gli uomini del distretto, che erano invece tutte le classi più umili, e in particolare servi della gleba e schiavi. Tre classi sociali sostanzialmente, quindi i nobili, chiamati uomini di servizio, i borghesi, chiamati uomini del borgo, e gli umili, chiamiamoli così, chiamati uomini del distretto. Questa divisione, di fatto, fotografava una situazione che già esisteva in Russia, non è che la situazione fosse molto diversa da così, ma il fatto che venisse poi sancita dalla legge questa distinzione, e quindi venisse anche, non solo fotografata, ma anche bloccata, bloccò di fatto appunto la società russa, nel senso che cambiare di classe sociale divenne sostanzialmente impossibile. I borghesi, ad esempio, che si trovavano a svolgere attività mercantili, o attività artigianali, e che magari volevano arricchirsi, non potevano fare alcun salto di categoria, erano bloccati e limitati a svolgere perennemente il loro mestiere. Loro e i loro discendenti, perché questa rigidità poi si trasmetteva di generazione in generazione. Cosa che era gravosa per un paese in crescita. Cosa accadeva in contemporanea nel resto d'Europa? Accadeva che spesso i borghesi si arricchivano e magari ambivano a entrare nella nobiltà. Abbiamo pur detto, che so, in Francia, della nobiltà di Toga. Una nobiltà di origine borghese, ma che si nobilita. E quindi la nobiltà di Toga è un modo, tra la fine del Cinquecento e la metà del Seicento, tramite cui i rami più alti della borghesia riescono a scalare le tappe, a salire, a scendere di grado, e arrivare al, non dico alla pari, ma quasi della vecchia nobiltà, della nobiltà di spada. Situazioni del genere potevano esserci anche in altri paesi, in altre zone. Laddove i borghesi si arricchivano, tentavano, magari con più fatica o meno fatica, di entrare anche nelle sfere del potere, e a volte ci riuscivano. In Russia questo diventa impossibile, perché il borghese deve fare il borghese, il nobile deve fare il nobile, il contadino, il servo, deve fare il servo. Anzi, l'effetto più importante di questo codice è quello proprio di aggravare ulteriormente le condizioni dei serviti della gleba. Abbiamo detto proprio nel video scorso che in Russia permaneva questa situazione, anche problematica, diciamo. Una servitura della gleba che non si faceva da parte, anzi, si rafforzava, nel senso che veniva rafforzata a scapito dei contadini. La servitura della gleba era una vecchia istituzione di origine medievale che nell'Europa occidentale era ormai stata sostanzialmente abbandonata perché i contadini erano stati liberati, potevano trasferirsi e cambiare, pur nello sfruttamento. In Russia invece viene addirittura legalizzata, di fatto, riconosciuta dalle leggi, dai codici, eccetera. Questo, di fatto, fa sì che i servi della gleba vedano ridursi le loro possibilità, vedano ridursi le loro libertà e siano, di fatto, ridotti a una condizione di schiavitù. Sostanzialmente i servi della gleba sono degli schiavi che lavorano nei campi che non possono ambire a nessuna possibilità di miglioramento della loro condizione. Quindi, la situazione a metà 600 è questa in Russia, una società ferma, rigida, rigidamente divisa e che lo Stato stesso, che gli zar stessi, legittimano in questa loro divisione. Questo, negli anni successivi, provocherà una serie di rivolte. Le rivolte furono di vario genere, però. In primo luogo, rivoltarsi furono anche i mercanti. Ce ne fu una importante nel 1656 che, però, venne facilmente repressa dallo Stato centrale. Ma, più rilevanti furono le rivolte dei contadini, che erano, obiettivamente, quelli più martoriati da questa riforma e, in generale, dell'atteggiamento dello Stato centrale. Contadini, che, però, si ribellavano, non solo contando sulle loro forze, che erano, in qualche misura, limitate, ma, a volte, alleandosi con i cosacchi. Chi sono questi cosacchi? Perché si ribellavano? I cosacchi erano delle tribù nomadi o seminomadi che abitavano la parte sudorientale della Russia. Quindi una zona abbastanza periferica, una zona di confine, sulla quale gli stessi zar, tipo Alessio, ma anche i suoi predecessori, non avevano mai allungato troppo le mani. Erano territori che appartenevano all'impero russo, ma sui quali la stessa Russia non voleva esercitare un controllo troppo netto. Perché? Perché questi territori erano, appunto, abitati da questi cosacchi, un'etnia anche in parte diversa da quella russa, e i cosacchi preferivano avere grande libertà su questi territori, perché erano abituati a vivere, soprattutto, di razzie. Compivano frequenti razzie lungo il corso dei fiumi, del Volga, del Don, e non avrebbero potuto fare queste razzie se lo Stato fosse intervenuto in maniera più capillare, se quelle terre fossero state affidate a proprietà di terrieri, eccetera. Quindi, da anni, in queste zone, esisteva una sorta di tacito accordo tra lo zar, il potere centrale, e i cosacchi. Lo zar non entrava nelle questioni locali e i cosacchi, in cambio, di questa libertà che era loro garantita, tenevano a sicuro i confini sudorientali dall'attacco dei turchi ottomani, perché questi cosacchi, oltre ad essere dei razzatori, erano anche molto abili dal punto di vista militare. E lo Stato centrale russo aveva tutto l'interesse a lasciar fare, perché i cosacchi, da anni, garantivano la sicurezza di quel confine. A sud c'erano, infatti, gli ottomani, che ricorderete, dal 400, 500, e in parte anche 600, sono un impero forte, pericoloso, aggressivo, che si tenta di espandere un po' da tutte le parti, anche nell'Europa orientale, ma anche vorrebbe verso la Russia. Il fatto che lì ci siano i cosacchi, così forti, così agguerriti, a cavallo, veloci, rapidi, irruenti, tiene a freno le mire dell'impero ottomano in quella zona. Quindi, fino alla metà del 600, questo equilibrio ha abbastanza retto. Gli zar lasciano in pace i cosacchi, i cosacchi difendono la Russia e siamo a posto così. Ma, nella seconda metà del 600, appunto, le rivolte contadine vanno ad aggiustarsi, ad aggiungersi, a legarsi, soprattutto a queste rivolte di cosacchi, che iniziano anche esse a farsi notare. Perché, in realtà, le nuove politiche degli zar, di Alessio e di altri, tendono ad allungare le mani verso questa zona. I cosacchi non vogliono, gli zar stanno tentando, con codici, con riforme, di accentrare il potere, ne nasce un braccio di ferro. Quindi, rivolte dei cosacchi che si legano a rivolte di contadine. Anche perché, le stesse truppe dei cosacchi vengono ingrandite da contadini ribelli, da servite della gleba che si danno la fuga, che scappano, magari, dalle terre in cui sono sfruttati e cercano di essere protetti da questi cosacchi, unendosi a loro. Nascono varie rivolte, quindi, nella parte meridionale della Russia, la più importante delle quali è quella che si combatte tra il 1670 e il 1671, guidata da un personaggio che diventa anche leggendario, quasi un eroe popolare, che si chiama, almeno così viene ricordato perché è un soprannome, Sten Karazin. Questo capo cosacco, questo sollato cosacco che si mette alla guida di questa rivolta, riesce effettivamente per qualche mese a tenere testa l'esercito zarista, forte anche dell'appoggio popolare, cioè, nelle zone appunto del sud, questa rivolta a cosacchi è molto appoggiata dalla popolazione locale che vede nei cosacchi i propri protettori e invece nelle truppe zariste un nemico e però finisce molto male, nel senso che per qualche tempo Sten Karazin e i suoi uomini riescono a tenere testa alle avanzate, ma in realtà il pugno di ferro dello zar è durissimo, lo era stato anche nelle rivolte di mercanti, lo era stato anche nelle prime rivolte contadine in altre zone della Russia e anche qui lo zar decide di agire con una durezza incredibile e alla fine le truppe cosacchi vengono sconfitte, lo stesso leader viene di fatto tradito dai suoi uomini, viene catturato dagli stessi cosacchi e è passato ai russi e verrà ucciso in maniera molto dura, squartato pubblicamente nel 1671 dai russi. segno che Alessio, ma poi è una linea che verrà seguita anche dai suoi successori, non ha nessuna intenzione di ascoltare le proteste popolari, di ascoltare le richieste anche di chi vorrebbe un alleggerimento di certe condizioni, un miglioramento, un maggior dinamismo sociale, non se ne parla proprio, se provate a ribellarvi vi schiaccio, questa è l'idea e è un'idea che per il momento regge perché effettivamente Alessio riesce pur con qualche difficoltà a far cadere tutti i ribelli, a ucciderli in maniera durissima in modo anche da dare un esempio ad altri che volessero eventualmente ribellarsi. Se provate a ribellarvi sapete cosa vi accade. Ma il problema delle rivolte e delle proteste e delle classi sociali più umili è solo uno dei problemi che la Russia di metà seicento deve affrontare. Ce n'è anche un altro almeno tra quelli più importanti che porta a divisioni lotte e problemi di vario tipo ed è la divisione religiosa. Perché? Perché la Russia da tempo ormai aveva aderito diciamo al cristianesimo greco ortodosso allo scisma che si era verificato ancora ai tempi di Costantinopoli tra chiesa occidentale e chiesa orientale. Però la versione diciamo così russa della religione ortodossa differiva in qualche misura dalle altre chiese ortodosse della chiesa greca propriamente detta dalla chiesa ortodossa di altre zone dell'est Europa. E allora attorno alla metà del Seicento prima nel 1652 poi più nettamente nel 1666 il patriarca ortodosso russo che si chiamava Nikon decise di attuare una riforma che doveva nelle intenzioni riavvicinare la chiesa ortodossa russa alle altre chiese ortodosse cioè visto che c'è qualche rito diverso visto che c'è qualche credenza diversa facciamo dei cambiamenti per ridurre le differenze con le altre chiese ortodosse con l'idea poi di creare un maggior legame tra le chiese ortodosse dovete tenere presente che in questo momento in questa fase storica la Russia da qualche decennio sta tentando di diventare il paese guida dell'est già da Ivan il terribile da Ivan IV e poi con Michele con Alessio e poi vedremo ancora di più con Pietro il grande gli zar stanno tentando di porsi alla guida di tutta la zona orientale dell'Europa già il fatto di prendere il nome di zar come abbiamo detto l'altra volta è significativo già il fatto di presentare Mosca come la terza Roma è significativo bisogna ingrandire i confini bisogna legare a sé agli altri popoli vicini bisogna creare un impero questa è l'idea è l'idea tipica dell'imperialismo ma per farlo bisogna certo conquistare territori militarmente e lì un po' alla volta l'esercito russo migliore inizia a ottenere successi come abbiamo visto eccetera ma bisogna anche unificare dal punto di vista religioso uno stato con un'unica religione è più unito di uno stato con tante diverse religioni o comunque con religioni che si assomigliano ma hanno differenze che le portano a divisioni quindi l'intento di Nikon è un intento sì religioso ma è un intento politico perché riavvicinare le varie chiese ortodosse serve a creare un'idea di chiesa unica che ben si sposerà con l'idea di uno stato unico allora la riforma di Nikon arriva in questa direzione è una riforma che prevede tutta una serie di piccoli cambiamenti almeno piccoli dal nostro punto di vista oggi ma che servono a riavvicinare ripeto le chiese quali sono questi cambiamenti ve ne cito un paio giusto per capirci ad esempio gli ortodossi russi per farsi il segno della croce fino a quel momento usavano due dita cioè facevano così noi in Italia i cattolici tendono a fare con la mano aperta il segno di croce quindi si fa così 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 eccetera gli ortodossi russi usavano invece due dita per fare il segno della croce ok la riforma prevede di passare a tre dita non più due ma tre voi dite capirai cosa cambia all'epoca era una questione molto sentita i riti oggi contano fino a un certo punto perché siamo in un'epoca molto laica da questo punto di vista ma dovete pensare che fino a pochi decenni fa anche da noi anche nel cattolicesimo i riti avevano un'importanza fondamentale perché i riti erano le abitudini tramite cui le persone pregavano e necessitavano la loro religione e adoravano il loro dio passare da due a tre dita per noi è una cosa davvero forse minuscola ma per gli uomini del tempo le donne del tempo aveva un certo peso perché gli portava a dire ma se adesso iniziamo a farci il segno di croce con tre dita significa che quando lo facevamo con due dita sbagliavamo che per anni per decenni abbiamo fatto il segno di croce sbagliato non solo da un lato si cambiò questo modo di farci il segno della croce dall'altro ad esempio si cambiò il modo in cui si traslitterava fino a quel momento adesso non sto a farvi il cirillico perché poi ne so anche io poco ma fino a quel momento si era traslitterato il nome di Gesù in un certo modo poi si cambiò lievemente di poco la traslittazione del nome di Gesù allora anche qui per noi può sembrare una cosa minuscola vabbè abbiamo pronunciato magari lievemente male il nome adesso lo pronunciamo in maniera più corretta però per un uomo e una donna del tempo questo significava che magari per tutta la sua vita aveva pregato Gesù sbagliando nel nome oppure adesso che si sta cambiando il nome si sta sbagliando il nome prima lo si pronunciava giusto per un uomo del tempo che era magari particolarmente revoto particolarmente attento alle questioni religiose ai riti cambiare il nome della divinità poteva essere assai rilevante ovviamente Gesù non è un personaggio qualunque Gesù per i cristiani è Dio che si è fatto uomo no? quindi cambiare il nome è una cosa non da poco poi c'erano anche altri cambiamenti c'erano cambiamenti nella formulazione del credo c'erano altri cambiamenti nella ritualità nella messa però insomma queste due sono le principali segno di croce e il nome di Gesù ora queste riforme che vennero introdotte nella Nikon vennero accettate da una buona parte della chiesa ortodossa russa che seguendo il patriarca il patriarca era la massima autorità e anche sulla spinta poi del peso politico quindi dello zar che appoggiò questa riforma iniziarono a aderire a questi cambiamenti eccetera però una parte non irrilevante degli ortodossi iniziò a protestare non accettò questo cambiamento non accettò questa riforma vedendola come un tradimento di quello in cui avevano sempre creduto delle loro tradizioni dei loro riti e quindi iniziarono non solo a protestare ma si verificò un vero e proprio scisma una scissione all'interno della chiesa ortodossa russa tra quelli che aderirono alla riforma di Nikon e i cosiddetti vecchi credenti che decisero di non aderire alla riforma e di continuare con i vecchi riti col vecchio modo di chiamare Gesù col vecchio modo di farsi il segno della croce eccetera le proteste furono anche molto forti i vecchi credenti pur essendo in parte perseguitati sopravvissero esistono ancora oggi all'interno del diciamo così dell'universo della galassia delle chiese ortodosse i vecchi credenti non sono tantissimi perché non sono certo la parte maggioritaria della chiesa ortodossa però esistono ancora non sono in Russia anche in altre parti del mondo perché poi tramite migrazioni sono rifusi altrove ma ci sono chiese di vecchi credenti così chiamati appunto che sono quelli che non hanno aderito alla riforma di metà 600 di Nikon segno che certo c'è il Russia un tentativo di creare uno stato assoluto possiamo dire così di rafforzare il potere centrale di uniformare la politica la società la religione ma questo tentativo a volte imposto anche con la forza e con la violenza incontra anche delle forti resistenze il processo però si completò e subì forse anche un'accelerazione molto forte alla sedita al potere di Pietro il grande il personaggio di cui vi parlavo già nella premessa lo zar forse più famoso di tutta la storia russa per le riforme per i cambiamenti eccetera questo Pietro il grande divenne zar nel 1682 era appena 10 anni in realtà quindi un bambino infatti inizialmente non governò più di tanto direttamente lui governarono insieme a lui il fratello Ivan ma poi la sorella l'altra Sofia insomma prima che prendesse il potere in maniera molto netta ci vuole un po' di tempo era figlio di Alessio quello che abbiamo visto prima Alessio Romanov però a differenza del padre a differenza dei predecessori Pietro era estremamente interessato e affascinato dal mondo occidentale i primi Romanov ma anche Ivan IV che abbiamo citato l'altra volta erano ancora uomini dell'est Europa uomini che non guardavano con grande favore all'Europa occidentale che non avevano usi e costumi simili a quelli dell'Europa occidentale c'era davvero una cesura all'ilà della Germania tra quello che erano la Germania la Francia l'Italia la Spagna l'Inghilterra eccetera e quello che era il mondo orientale una cesura proprio a livello anche di costumi di modi di vestire di lingua di alfabeto l'alfabeto latino l'alfabeto cirillico di religione i cattolici o comunque luterani protestanti da una parte ortodossi dall'altra insomma c'era una visione molto netta le stesse corti europee erano abituate a vedere i russi quasi come degli asiatici più che degli europei vedere un ministro un ambasciatore russo era come vedere un ambasciatore persiano nell'immaginario perché arrivavano vestiti in maniera strana con queste barbe molto lunghe erano diversi pietro fu il primo di questa dinastia ramanofi invece a rinteressarsi molto all'europa occidentale e a cercare poi negli anni di occidentalizzare il proprio paese avvicinare la russia all'europa come lo fece intanto fin da ragazzino bisogna dire anche già diventato zar prima ancora però dipende dei poteri saldamente nelle sue mani pietro iniziò a studiare il mondo occidentale prima tramite alcuni forti contatti con una piccola comunità tedesca che viveva nei soborghi di Mosca che lui iniziò a frequentare soprattutto con l'intento di capire anche come in Europa si gestiva l'esercito la russia sta crescendo dal punto di vista anche militare soprattutto con questa repressione delle rivolte interne eccetera ma un esercito che non è ancora paragonabile agli eserciti occidentali che non potrebbe reggere l'urto delle guerre con i paesi dell'ovest e però pietro è interessato anche a capire cosa hanno i paesi dell'ovest in più dal punto di vista militare cosa si può imparare da loro quindi frequenta prima questi tedeschi e poi nell'adolescenza compie una serie di viaggi in tutta l'Europa occidentale spesso anche in incognito cioè non presentandosi come lo zar come Pietro Romanov ma come un nobile in viaggio di conoscenza verso l'Europa si sposta in Germania a lungo in varie zone della Germania in varie principati tedeschi ma poi arriva anche in Olanda in Inghilterra in Austria per capire come vivono gli occidentali per capire anche come funziona il loro esercito ma in generale la società occidentale i pregi e i difetti dopo questa esperienza nel 1698 quindi quando ha circa 17 anni se ho fatto bene i conti 1672-98 no 27 anni ho fatto male i conti quando ha tipo 27 anni torna in Russia e lì diventa finalmente azzaro a tutti gli effetti prende il potere nelle sue mani e tenta di dargli via all'abbandono delle vecchie tradizioni slave russe e invece ha un avvicinamento all'Europa occidentale ripeto non tanto o non solo meglio perché l'Europa occidentale sia bella certo Pietro ha un certo interesse anche per i costumi ma perché nell'ottica di Pietro questo diventa un progetto politico cosa bisogna fare della Russia bisogna modernizzarla la Russia è ancora arretrata sotto diversi punti di vista dal punto di vista tecnico militare anche di organizzazione statale è un gigante perché è un territorio molto ampio molto vasto ma fragile proprio perché non si è saputa evolvere in un certo senso ora Pietro spera che implementando alcuni costumi occidentali alcuni e non tutti diventi gradualmente più facile imporre alla Russia una serie di riforme che possano rendere più moderno il paese che possano renderlo più competitivo dal punto di vista economico e soprattutto dal punto di vista militare questo è il suo progetto progetto che porta avanti tra la fine del 600 e l'inizio del 700 perché governerà fino a 1725 e che in effetti un po' alla volta inizia a dare i risultati non subito è un processo abbastanza lungo lui governa per un trentennio anche lui tutto sommato anzi un quarantennio anche ma direttamente per un trentennio e alla fine porta a dei risultati quali vediamoli questo sfide proprio dal punto di vista militare perché proprio all'inizio del dominio di Pietro la Russia aveva dimostrato di essere molto debole da questo punto di vista contro i paesi esterni nel 1700 ad esempio proprio nell'anno 1700 la Russia aveva combattuto una importante battaglia contro la Svezia perché gli interessi svedesi gli interessi russi collidevano i russi avrebbero voluto espandersi sul mar baltico vi faccio vedere anche una cartina ma la Svezia siamo appunto a fine 600 inizio del 1700 era la potenza leader in quella zona ricorderete che durante la guerra di 30 anni quella combattuta nella prima metà del 600 la Svezia aveva avuto un ruolo da protagonista ed era uscita alla fine rafforzata ottenendo anche proprio molti porti e molte zone importanti sul baltico ora la Russia voleva espandersi lì perché lì c'erano i commerci lì c'era la ricchezza lì c'erano i porti ma la Svezia glielo impediva appunto in questo primo confronto nel 1700 i svedesi avevano ottenuto una vittoria clamorosa contro i russi perché clamorosa perché il re svedese si chiamava Carlo XII alla guida di un esercito anche piuttosto piccolo formato da appena 8000 uomini era riuscito ad averla meglio di un esercito russo che invece era formato da 40.000 uomini cioè l'esercito russo era 5 volte quello svedese eppure perse segno di una incapacità tecnica tattica piuttosto grave ovviamente perché certo i numeri non sono tutto negli eserciti nelle battaglie non sono affatto tutto perché ci vuole anche la capacità la tecnica e la tattica ma una proporzione di 5 a 1 e perdere in maniera così clamorosa è raro vederla ecco segno di un esercito russo che va assolutamente riformato Pietro effettivamente negli anni successivi si impegna soprattutto in questa direzione riforma dell'esercito anche chiedendo aiuto a esperti stranieri che Pietro aveva conosciuto o dai quali aveva cercato di imparare durante i suoi viaggi in Europa occidentale portiamoli in Russia aiutiamoci facciamo sì che ci aiutino a riformare l'esercito ed effettivamente a giro di poco tempo l'esercito viene ampiamente riformato si allargano gli effettivi intanto quindi visto che la Russia ha tanti abitanti si può anche incrementarne il numero arrivano a 100.000 uomini arrivano a 300.000 uomini scusate però 100.000 di questi 300.000 sono cosacchi di nuovo i cosacchi che sono molto forti militarmente vengono inglobati nell'esercito in cambio di qualcosa Pietro garantisce a loro le autonomie che hanno già nei loro territori in cambio di una leva anche piuttosto lunga all'interno dell'esercito e i cosacchi aderiscono poi vengono inglobati nell'esercito anche vagabondi contadini poveri le frange più basse della popolazione ma in modo che vengano addestrate bene combattono e si possano incrementare il numero dei soldati e in più Pietro garantisce anche che all'interno dell'esercito vadano anche dei rappresentanti delle varie zone cioè ogni zona la russia deve mandare alcuni uomini dare alcuni uomini all'esercito di moro e riformare anche un certo senso di appartenenza nazionale nelle lotte dell'esercito in più soprattutto vengono cambiati sistemi organizzativi e le tattiche militari vengono ampiamente aggiornate si rafforza la flotta perché si capisce che se si vuole combattere contro gli svedesi bisogna combattere anche sul mare se ci si vuole espandere sul baltico bisogna avere una flotta degna di questo nome e insomma si migliora sotto diversi punti di vista anche dal punto di vista dell'addestramento già nel 1709 i russi infatti ottengono i primi grandi risultati nel 1700 avevano perso nove anni dopo complice a questo tentativo di forma anche molto sostenuto molto accelerato di Pietro il Grande i russi ottengono vittorie importanti la prima vittoria importante è quella di Poltava in cui Carlo XVI viene sonoramente sconfitto il re svedese ed è costretto addirittura a scappare presso i turchi a cercare rifugio presso i turchi nel giro di pochi anni la guerra termina termina nel 1718 Carlo XII tra l'altro muore in battaglia quindi per gli svedesi è un tracollo rispetto a quello che si aspettavano questa guerra del nord si conclude nel 18 poi nel 19 nel 21 vengono firmate le paci si chiamano paci di Stoccolma e di Nistad paci non solo tra Svezia e Russia ma anche tra Svezia e vari stati tedeschi queste due paci sanciscono la fine di fatto dell'egemonia svedese sul Baltico perché? perché la Svezia è costretta a cedere vari porti a varie zone tedesche la città di Brema il porto di Stettino che erano porti molto importanti zone molto importanti della Germania che gli svedesi avevano conservato già dalla fine della guerra di 30 anni dalla pace di Westfalia ma che adesso perdono dopo quasi un secolo no 70 anni perdono ma per quanto riguarda la Russia c'è la cosa che più interessa a noi la Russia ottiene i paesi baltici di fatto si espande in Estonia in Livonia in Ingria e in Finlandia quindi tutta la zona vi faccio vedere una cartina tutta la zona dei quelli che oggi chiamiamo paesi baltici anche inizio a Scandinavia vanno sotto il dominio russo per Pietro è una grande vittoria perché di fatto tutti questi paesi si affacciano sul Baltico e danno alla Russia porti importanti per i commerci e anche per l'afflato militare tra l'altro proprio all'inizio di questa guerra con la Svezia nel 1703 Pietro aveva reso abbastanza note e chiare le sue intenzioni fondando anche proprio sul mar Baltico sul golfo di Finlandia una città nuova che lui vorrebbe rendere la nuova capitale del suo impero questa città prende il nome di Pietroburgo all'inizio poi Pietrogrado poi Leningrado poi di nuovo Pietroburgo dal nome del sovrano che la fonda Pietro lo zar fonda questa città e questa città è la città di Pietro Pietroburgo vuol dire questo ovviamente che è l'attuale San Pietroburgo città importante oggi seconda città russa per importanza dopo Mosca ma Pietro che non amava molto Mosca che non amava molto il Cremlino Mosca era la capitale storica dei domini zaristi dei domini russi ora lui vuole portare la capitale altrove una zona anche tra l'altro abbastanza impervia perché San Pietroburgo se avete presente è molto a nord rispetto a Mosca però una città che si affaccia sul mare una città che rende abbastanza chiari i desideri di questo zar di un'espansione verso occidente e di un'espansione anche commerciale militare cioè non vogliamo rimanere una Russia chiusa in noi stessi là isolata fuori da tutto lontano da tutti vogliamo una Russia che si apre tramite il mare tramite i contatti tramite le conquiste anche che si apre verso l'ovest bisogna dire per chiudere la pagina militare che qui arrivarono le grandi conquiste di Pietro poi i suoi successori tentarono di continuare sulla stessa falsariga soprattutto tentarono di farci che il Baltico non fosse l'unico sbocco sul mare della Russia perché i porti del nord sono importanti ma il problema di quei porti del nord di San Pietroburgo dei paesi baltici eccetera è che spesso in inverno quei porti sono poco servibili per via dei ghiacci bisognava trovare anche uno sbocco al sud effettivamente nei decenni successivi in particolare negli anni 80 e 90 del 700 quindi un cinquantennio un settantennio dopo la Russia riuscì finalmente dopo molti sforzi a conquistare anche le porti al sud strappando la Crimea e la parte settentonale del Mar Nero delle coste del Mar Nero all'impero ottomano sapete che oggi effettivamente queste due dimensioni il Baltico e la Crimea sono al centro anche delle lotte delle conquiste dei tentativi della Russia attuale di espansione militare ecco effettivamente a fine del 700 la Russia trovava anche un porto o meglio una serie di porti al sud libera dei ghiacci che permetteva tramite ovviamente i dardanelli però di sfociare poi nel Mediterraneo cosa che per la Russia era indispensabile però ci si arrivò a fine del 700 molto dopo la morte di Pietro che morì appunto nel 1725 e però il tentativo a questo alla fine è sempre di espandersi di allargarsi di aprirsi questo per parlare dell'aspetto militare ma poi Pietro il Grande riformò anche l'amministrazione pubblica e il governo in primo luogo cercò di rafforzare il suo potere era un sovranno assoluto e per rafforzare il suo potere doveva indebolire il potere invece dei boiardi che abbiamo detto nel video precedente erano i vecchi nobili che esercitavano ancora un certo una certa influenza in alcune zone della Russia già il potere dei boiardi era stato limitato da Ivan ma adesso bisognava annullarlo e in effetti Pietro ci riuscì abolì la Duma che era quell'assemblea di Boiardi quel parlamento di Boiardi la cancellò completamente e creò al suo posto quello che chiamò un senato che però di fatto non era un parlamento era piuttosto un governo potremmo chiamarlo così un esecutivo formato da nove membri che rispondevano direttamente a lui quindi è un modo per accentrare il potere ovviamente crea un governo e abolisco il tra virgolette parlamento dei nobili in modo che i nobili non abbiano più voce un capitolo e che decida io con i miei fedelissimi sostanzialmente quindi questa è la prima mossa per rafforzare il suo potere centrale ma poi nel 1722 creò una riforma basata sulla cosiddetta tabella dei ranghi cos'era sta tabella dei ranghi era una proprio vera e propria tabella in cui erano sanciti i 14 ranghi cioè i 14 scalini possiamo chiamarli anche così della carriera statale perché il tentativo di Pietro fu quello di far sì che i nobili invece di esercitare il loro potere in periferia nei territori ancora alla vecchia maniera dove io controllo questa zona tu controlli quell'altra zona che i nobili venissero tolti dal territorio e venissero invece portati a lavorare per lo stato passati a servizio dello stato ricordate che prima con Alessio abbiamo parlato proprio degli uomini di servizio i nobili devono diventare persone importanti però a servizio dello stato e allora Pietro stabilì proprio le tappe della carriera tramite cui una persona che ci metteva a servizio dello stato spesso i nobili faceva passaggi diciamo così scatti di carriera da un rango all'altro i ranghi erano 14 si partiva tutti dalla base dal rango 1 e però a seconda dei vari scatti di carriera si poteva scalare questa graduatoria questa tabella dei ranghi e la nobiltà arrivava all'ottavo grado il conferimento della nobiltà poteva arrivare all'ottavo grado quindi c'erano i nobili che entravano in questa tabella ma c'erano anche i borghesi a volte se i borghesi si mettevano a servizio dello stato potevano ambire a diventare nobili quindi si introduce ma con la finalità di creare un apparato statale efficiente si introduce una certa mobilità sociale cioè prima abbiamo detto con Alessio che c'era grande rigidità adesso in parte Pietro garantisce la possibilità per alcune classi sociali di migliorare la loro condizione se sei un borghese vuoi metterti a servizio dello stato e sei capace entra nell'amministrazione pubblica se farai carriera all'ottavo grado ti daremo anche la nobiltà daremo un titolo nobiliare cosa che farà di te un personaggio importante della sfera pubblica e dello stato tutto questo a patto che tu ti metti a servizio dello star però perché chiaramente è un modo per garantire un po' di mobilità sociale ma anche per controllare tutti i potenti locali tutti i nobili tutti i borghesi se vogliono contare qualcosa devono mettersi a servizio dello star quindi è una politica tipicamente assolutista tramite cui Pietro prende ad esempio alcune cose fatte anche in occidente e tenta di mettere sotto controllo le persone più rilevanti del paese e di fatto ci riesce infine interessato a occidentalizzare e rafforzare la Russia Pietro dà grande slancio anche alle accademie alle scuole prendendo a modello quello che si sta facendo in occidente ad esempio aveva scoperto che in Inghilterra c'era la Royal Society importante istituzione che prende dentro gli scienziati i tecnici i più grandi menti d'Inghilterra allora crea anche un'accademia delle scienze russa sullo stesso modello organizzata in maniera molto simile per organizzare tra loro tutti i grandi scienziati russi i grandi tecnici russi con l'intento di promuovere la conoscenza e la scienza ma le accademie che nascono in Russia sono molte anche accademie militari anche scuole militari anche scuole di navigazione perché Pietro si rende conto che le conoscenze russie sono realizzate rispetto all'Inghilterra o altri paesi molto avanzati dell'Occidente bisogna sopperire a queste mancanze quindi scuole sovvenzionate anche dallo Stato accademie eccetera per migliorare la preparazione alcune di queste come l'Accademia delle Scienze diventeranno effettivamente nel giro di qualche anno uno dei fiori all'occhiello della Russia e permetteranno anche di progredire militarmente perché ovviamente quando tu hai scuole militari scuole di navigazione molto efficienti riesci ad avere anche dei risultati a livello militare perché hai buoni ufficiali hai buone navi hai buone flotte e ottieni risultati dal punto di vista militare chiaramente l'intento però è quello poi di europeizzare le elite cioè queste accademie non è che imparano dalla tradizione russa vanno a studiare quello che si è scoperto in Francia in Inghilterra in Germania si fanno arrivare mestri dall'occidente perché insegnino i russi e quindi di fatto la Russia tende durante tutto il regno di Pietro a abbandonare o comunque a ridimensionare le vecchie tradizioni slave o orientali e aprirsi molto all'Europa Pietro è sicuramente il grande zar che occidentalizza la Russia o tenta di avvicinare la Russia almeno al mondo occidentale alle tradizioni alle scienze alle conoscenze occidentali grandi successi da parte di Pietro tutte queste mosse vanno a buon fine in buona misura sì c'è qualche limite nella politica di Pietro il grande sicuramente certo i risultati arrivano la Russia si la forza la Russia migliora fa dei decisi passi avanti e quando la vedremo combattere le guerre napoleoniche poi nell'ottocento sarà merito anche delle riforme attuate da Pietro il grande però qualche cosa che non va a buon fine c'è in particolare una cosa una riforma di Pietro non raggiunge i risultati sperati ed è il tentativo di mettere a sicuro la successione cioè Pietro durante il suo regno tenta di riformare il meccanismo di successione russo che pure aveva dato vari problemi ne avevamo parlato prima di Romanov con i torbidi eccetera l'intento di Pietro sarebbe quello di far sì che la monarchia russa lo zar titolo di zar venga non assegnato tanto per via puramente dinastica ma che lo zar in carica possa decidere il proprio successore tramite un'assegnazione testamentaria cioè faccia testamento e nel testamento indichi il proprio successore questo questo nell'ottica di Pietro dovrebbe garantire la salita al potere di persone capaci non scegliamo il primo genito che magari non sempre è il migliore il più adatto allo scopo ma scegliamo la persona più adatta un po' il modello proprio dell'impero romano nelle fasi primo secondo secolo in cui c'era la disegnazione per adozione ecco il meccanismo dovrebbe essere quello lo zar in carica sceglie il proprio successore questo meccanismo che viene sancito da Pietro però non riesce mai a entrare veramente in vigore dopo la morte di Pietro infatti si arriva a una serie di nuovo di disordini in Russia di congiure di caos di lotte per il potere proprio perché questo meccanismo non è sufficientemente condiviso e chiaro e per una quarantina d'anni dagli anni 20 agli anni 60 la Russia è segnata da nuove lotte intestine tra aristocratici pretendenti al trono boiardi eccetera è un segno che questa riforma di Pietro che doveva dare stabilità alla Russia non raggiunge lo scopo ecco questo è quello che secondo me c'era da dire per parlare della Russia del 600 con Alessio Romanov ma poi soprattutto della Russia d'inizio 700 con Pietro il Grande una Russia che sta cambiando faccia una Russia che si sta facendo all'Occidente e in fondo oggi se guardate a quello che a volte lo stato attuale russo porta in campo quando fa propaganda come tutti gli stati di un certo tipo fanno riprende qualcosa di vero della storia russa perché Pietro sicuramente fu un grande condottiero fu sicuramente quello che rafforzò di più l'idea di una Russia imperiale di una Russia forte di una Russia che voleva guidare l'Europa orientale ma si dimenticano di dire forse che questo Pietro in realtà non era un Pietro o uno zar che voleva chiudere la Russia all'Occidente ma che al contrario voleva aprire la Russia all'Occidente voleva occidentalizzare la Russia certo non in chiave democratica ma all'epoca non esisteva nessuna democrazia in Occidente nel mondo ma per conoscenze per modelli politici in fondo a breve parleremo anche di Caterina che fu una zarina che tra l'altro neppure nativa russa ma nativa tedesca che di nuovo si aprì all'Occidente soprattutto all'illuminismo e quindi in realtà c'è una tradizione anche di zar russi che guardano con interesse almeno alcune cose della filosofia della concezione delle istituzioni occidentali quindi come sempre le propagande prendono quello che conviene prendere del passato e invece è bene conoscere il passato nella sua interezza con le sue luci e le sue ombre come spesso ci sono come ci sono sempre basta dire che ho detto tutto mi pare di aver detto tutto in descrizione comunque ritrovate i titoletti che sono comparsi qui se volete riascoltarvi un pezzo della spiegazione ritornare indietro andare avanti in più trovate i link agli altri video che ho citato e trovate i link alle playlist principali e soprattutto ai social network e alla newsletter settimanale gratuita se volete rimanere informati su quello che faccio sulle iniziative sui video eccetera infine sempre lì trovate anche i modi se vi interessa per sostenere il canale se vi piace quello che facciamo volete darci una mano date un'occhiata ho finito ci vediamo presto per altri video di storia anche di storia russa perché c'è ancora qualcosa da raccontare e poi in generale di filosofia sempre storia ma anche di altre parti del mondo ed educazione civica ciao alla prossima ciao alla prossima